Musica Mazzette e ruberie nella pubblica amministrazione, l'autorità anticorruzione rivela il fermo per crisi di un quarto dei lavori pubblici, 18 miliardi di euro in meno, ma anche che lo Stato ha speso 3 miliardi per dispositivi sanitari anti-Covid, episodi di truffe su guanti e mascherine. Il mondo del lavoro fatica a ripartire, da febbraio a maggio 900 mila inattivi in più con il Covid, mezzo milione di posti persi, donne e tempi determinati pagano di più la crisi. Il processo ai fucilieri di Marina, Massimiliano Lattore e Salvatore Girone si terrà in Italia, la corte permanente dell'arbitrato dell'AIA riconosce la giurisdizione italiana, ma Roma dovrà risarcire per l'uccisione dei due pescatori del Kerala. Papa Francesco partecipa al dolore che ha colpito Benedetto XVI per la morte del fratello Georg, il pontefice invia al Papa Emerito un messaggio nel quale assicura la sua preghiera e vicinanza. Sei foto finora inedite, ritrovate grazie al lavoro assiduo e tenace di alcuni studiosi, documentano la strage di Debre Libanos, nella quale i militari italiani il 19 febbraio del 1937 massacrarono centinaia di monaci e novizi. Buonasera, il coronavirus non ci ha reso migliori, lo speravamo, ma il rapporto dell'autorità anticorruzione gela le attese al di là dei fenomeni di corruttere nell'amministrazione che non mancano mai. L'analisi ci dice che in fase Covid sono stati tanti gli episodi anomali sui dispositivi sanitari. L'ANAC certifica che lo Stato per guanti, mascherine e apparecchi fra marzo e maggio ha speso più di 3 miliardi di euro. I mille danni del Covid. La relazione annuale dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione presentata oggi alla Camera, spiega che nel periodo acuto della pandemia gli abbatti pubblici, che nel 2019 si erano attestati a 170 miliardi di euro, livello record, sono calati nel primo quadrimestre del 2020 del 33%. Record in Lombardia, meno 63%, mentre altre regioni hanno visto addirittura il segno più, come in Lazio, dove si è registrata una crescita del 14%. Ma c'è un ma. L'ANAC sottolinea che sono state 22.000 le procedure di gara finora congelate, le quali, una volta perfezionate, renderebbero meno negativo il dato. Ma quanto si è speso durante l'emergenza? Più di 3 miliardi, dice l'autorità nazionale anticorruzione di questi due, dal 1 marzo al 10 aprile di quest'anno. Acquisti con tanto di distorsioni, dall'abnorme lievitazione dei prezzi per i dispositivi sanitari, come le mascherine, i guanti e i gel, allo scostamento in termini di qualità, dalla mancata stipula del contratto ai ritardi nella consegna. I soliti vizi talici, sui quali, afferma il presidente facente funzioni dell'ANAC, Francesco Merloni, non bisogna mai abbassare la guardia. La corruzione, il principale problema del nostro paese, resta fenomeno dilagante e diventa problema centrale soprattutto in questo periodo, fra Covid e post-Covid, e spesso per importi bassi. Nel 2019 sono stati comunicati 633 provvedimenti di interdittiva antimafia, contro i 573 del 2018, il 10% in più. Il dato è molto preoccupante, perché le organizzazioni criminali ricorrono sempre più spesso a sistemi corruttivi. Per raggiungere i loro scopi, spiega Merloni, che lancia un alert sul disegno di legge che vorrebbe semplificare i passaggi burocratici. Che ci voglia una semplificazione della normativa è indubbio. Dire questo non significa eliminare le regole o andare in deroga generalizzata alle norme. Questa è una bella differenza. La crisi del mondo del lavoro, i dati si mettono in luce e confermano le difficoltà di molti settori che non riescono a ripartire dopo la chiusura dettata dall'emergenza sanitaria. Da febbraio è stato bruciato quasi mezzo milione di posti di lavoro. Federico Plotti. Con l'epidemia di coronavirus e il conseguente lockdown da febbraio sono andati persi oltre 500.000 posti di lavoro. Continua dunque a crescere la disoccupazione nel nostro paese, ma come rileva l'Istat con l'inizio della fase 2, come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile scorso, a maggio l'incremento pari allo 0,4% su base mensile è stato molto meno marcato rispetto a quello registrato nei due mesi precedenti, quelli del picco dell'emergenza sanitaria. Sono andati persi comunque 84.000 lavoratori, nella stragrande maggioranza donne che rappresentano circa l'80% del totale. Il calo riguarda soprattutto i dipendenti con un contratto a tempo determinato di tutte le fasce d'età sotto i 50 anni. Effetto della chiusura totale che ha influito pesantemente anche sulla capacità di ripresa di molte aziende e imprese, ferite quasi a morte dagli eventi. Nello stesso periodo del 2019 i dipendenti a termine erano quasi 600.000 in più. Numeri che raccontano una crisi di proporzioni vastissime, anche se a maggio si registra qualche segnale positivo. Con la graduale riapertura delle attività produttive torna a crescere il numero di persone in cerca di lavoro, circa 307.000 in più, un aumento rispetto ad aprile scorso del 18% con le donne, anche in questo caso affare da capofila. Sempre a maggio diminuiscono anche gli inattivi, cioè coloro che non hanno un lavoro e nemmeno lo cercano. Il calo è pari all'1,6%, oltre 200.000 persone in meno rispetto al mese precedente. E nei dati aggiornati a pochi minuti fa sul contagio in Italia si conferma da una parte il contenimento dell'epidemia per via dei numeri bassi rispetto al passato, ma con qualche apprezzione dovuta agli aumenti in 24 ore. Vedete i dati nel cartello, sono 201 i nuovi positivi in più oggi contro i 182 di ieri, 30 le persone morte ed erano 21 ieri, 366 i guariti che sono meno rispetto alla giornata di ieri. L'Italia prova comunque a ripartire e lo fa anche guardando alla possibilità concreta di un vaccino con tutte le cautele possibili. Pierluigi Vito. La novità più rilevante è il focolaio individuato in una carpenteria metallica di Poiana Maggiore nel Vicentino. Cinque positivi al Covid-19 finora riscontrati e almeno 30 persone in isolamento. L'attenzione non cala nel nostro paese, in particolare al monitorare l'emergere di nuovi contagiati. Le principali situazioni sotto controllo restano Bologna, con 118 contagi accertati tra i lavoratori del magazzino del Corriere BRT e i loro familiari e Mondragone, in provincia di Caserta. 75 i tamponi positivi tra i residenti dei cosiddetti Palazzi Cirio, per lo più lavoratori in aziende agricole della zona. Altri focolai sotto esame, quelli di Fiumicino, sul litorale romano, e Palmi, in Calabria. Situazioni che spingono le autorità a chiedere agli italiani di scaricare sugli smartphone l'app immuni. Lo hanno fatto finora solo in 4 milioni, per avere dati su eventuali contagi in tempi ridotti e scongiurare una seconda ondata di pandemia. La scienza non può escluderla, ha ricordato oggi il ministro della Salute Roberto Speranza, e per questo la popolazione deve conservare atteggiamenti di cautela, come indossare mascherine, evitare assembramenti e igienizzare le mani. Cautela adottate anche nell'apertura degli ingressi da 15 paesi al di fuori dell'Unione Europea. Via libera agli scali, ma per chi arriva, due settimane di isolamento fiduciario. Dal ministro anche l'impegno è rafforzare ulteriormente il Servizio Sanitario Nazionale, per affrontare con più sicurezza l'autunno. Tutto questo, mentre nel mondo si raggiunge il record di contagi, negli Stati Uniti si registrano altri 52 mila casi, mentre la Gran Bretagna va verso la revoca della quarantena agli stranieri. Maurizio Dischino. La pandemia di nuovo coronavirus in un solo giorno ha raggiunto altre 218 mila persone. A livello globale, stando ai dati aggiornati dalla John Hopkins University, finora non era mai stata raggiunta una cifra quotidiana così alta come quella delle ultime 24 ore. Il paese più segnato sono gli Stati Uniti. 2 milioni 687 mila casi su 10 milioni 700 mila nel mondo. Nelle ultime 24 ore, per la prima volta, sono stati registrati più di 50 mila contagi in un giorno. A Houston, nel Texas, non ci sono più letti liberi negli ospedali. Washington ha fatto sapere di aver creato in giugno 4,8 milioni di posti di lavoro, ma in California, a bar e ristoranti, è stato limitato di servire i clienti solo all'esterno. Il Brasile, secondo paese al mondo per contagiati, quasi un milione e 450 mila, ieri ha reso omaggio agli oltre 60 mila morti proiettando messaggi luminosi in diverse lingue sulla statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro. Lo Stato di San Paolo spera di avere in settimana l'autorizzazione a sperimentare su 9 mila volontari un vaccino studiato all'Università Britannica di Oxford. In America Latina, la Colombia ha superato i 100 mila casi. In Europa, la Russia, terzo paese più colpito nel mondo, ha superato i 660 mila casi accertati. La Gran Bretagna, da lunedì prossimo, esenterà i cittadini di 75 paesi meno a rischio a non auto-isolarsi quando entreranno in territorio britannico. In Asia preoccupa l'andamento della pandemia in India, Pakistan e Indonesia. Il difficile momento viene confermato dalle parole di Paolo Gentiloni, commissario europeo all'economia che invita l'Italia a preparare il piano anti-recessione con il supporto di Bruxelles. Intanto il governo cerca l'accordo sul decreto semplificazioni mentre il Presidente del Consiglio esce fra i romani. In centro, Augusto Cantelmi. Hai chiesto il credito d'imposta per tre mensilità a 60%? Sì, l'abbiamo fatto. Perfetto. Contributi a fondo perduto? Lo sai che da qualche giorno l'Agenzia dell'Entrata distribuisce i contributi a fondo perduto? No, questo non lo sappiamo. Allora, vai subito sull'Agenzia dell'Entrata. A spasso per il centro tra commercianti e artigiani, il Presidente Consiglio Conte si concede una pausa tra un vertice e l'altro sul decreto semplificazioni. Dobbiamo incrementare i consumi, i nodi, i regali. Attenzione alla carrozzina, attenzione. A Palazzo Chigi resta il nodo sul decreto semplificazioni e sugli appalti. Ma non possiamo accettare il principio per cui in Italia non facciamo, lo facciamo lentamente per paura di infiltrazioni mafiose, criminali, per paura che ci siano episodi di illegalità. Ma nel governo le distanze sono ancora profonde mentre si complica il dialogo con le opposizioni. Se forse Italia si dice pronta a sostenere un nuovo governo, la Lega chiede il voto. Governi a tavolino ne abbiamo già visti abbastanza. Elezioni, democrazia, scelta, popolo, sovranità che appartiene al popolo, Parlamento nuovo. Sullo sfondo la partita europea col commissario economico Gentiloni che invita il governo a utilizzare il meccanismo salva stati. Io penso di aver lavorato per consentire che i prestiti messi in campo dalle istituzioni europee fossero senza condizionalità. Le riforme costituzionali volute dal presidente russo Vladimir Putin passano lo scoglio del referendum popolare e aprono la possibilità, lo stesso Putin, di rimanere al potere fino al 2036. A votare è andato il 64% degli eventi diritto e il risultato era ampiamente atteso, ma diversi esponenti dell'opposizione russa parlano di brogli. Marco Burini. Il 78% di consensi è tanto o poco? Dipende. Per uno Zara è pure poco, ma d'altronde oggi il potere non si prende con una incoronazione, ma con un'elezione, e lo si mantiene il più a lungo possibile. È quello che ha fatto Putin, ottenendo il via libera a riforme costituzionali che, oltre a rafforzare il diritto nazionale su quello internazionale, gli permetteranno di ripresentarsi alla presidenza per altri due mandati, cioè fino al 2036. Per diversi osservatori, questo referendum, 65% di affluenza, è un'altra tappa della democratura, una dittatura travestita da democrazia. Nella grande madre Russia, che è grande per davvero, 11 fusi orari, i seggi sono rimasti aperti una settimana, con il risultato che i dati definitivi di Vladivostok nell'Estremo Oriente venivano diffusi mentre i moscoviti ancora votavano. L'osservatorio indipendente Golosh parla di evidenti manipolazioni, anche perché Putin e i suoi controllano quasi tutti i media, mentre i grandi gruppi industriali e finanziari sono in mano a uomini fidati. Unione Europea e Stati Uniti contestano irregolarità e violenze segnalate prima e durante il voto, ma sono parole che fanno il solletico a Putin, 67 anni, padre e padrone della Russia da 20. Grazie anche alla solida alleanza con la Chiesa Ortodossa. Bastava vederlo accanto al Patriarca Kirill davanti alla gigantesca Chiesa delle Forze Armate, alla vigilia della grande parata per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, il 24 giugno. Era in calendario il 9 maggio, ma è stata spostata per il virus, che però non è affatto domato e resta una spina nel fianco del nuovo zar, insieme ai pochi che al referendum hanno detto no. Lo Stato di Israele e lo Stato di Palestina hanno il diritto di esistere, di vivere in pace e sicurezza dentro confini riconosciuti internazionalmente. Lo ha ribadito il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, che in questi giorni, incontrando separatamente sia l'ambasciatore degli Stati Uniti d'America che l'ambasciatore dello Stato di Israele, ha espresso forte preoccupazione su possibili azioni unilaterali che potrebbero mettere ulteriormente a rischio la ricerca della pace tra israeliani e palestinesi e la delicata situazione in Medio Oriente. Il governo israeliano ha infatti annunciato il rinvio delle annessioni di parte dei territori palestinesi e reso noto che nei prossimi giorni avranno luogo delle consultazioni con l'amministrazione statunitense. Torniamo adesso a parlare della vicenda dei due fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, perché il Tribunale internazionale assegna il caso all'Italia e riconosce l'immunità per i due Marò, ma il nostro paese dovrà pagare per i pescatori uccisi il 15 febbraio del 2012. Vito De Torre. Giudicare i Marò spetta all'Italia. Questa l'ultima parola sull'arbitrato internazionale tra India e Italia su questa vicenda che va avanti ormai da 18 anni. Il Tribunale arbitrale costituito a Laia nel 2015 ha accolto quindi la tesi sempre sostenuta dall'Italia in tutte le sedi giudiziarie indiane e internazionali e cioè che i due fucilieri di Marina erano funzionari dello Stato italiano, impegnati nell'esercizio delle loro funzioni e pertanto immuni dalla giustizia straniera. I giudici internazionali infatti hanno stabilito che l'Italia dovrà esercitare la propria giurisdizione e riavviare il procedimento penale. Dunque, il processo a carico dei due Marò, Salvatore Girone e Massimiliano La Torre, riprenderà, sì, ma in Italia. Un successo per la diplomazia italiana. Ma anche il governo indiano parla apertamente di una sentenza positiva perché i giudici internazionali hanno sancito che l'Italia ha violato la libertà di navigazione e dovrà pertanto risarcire economicamente l'India per la perdita della vita dei due pescatori del Kerala colpiti a morte secondo alcune ricostruzioni dai due fucilieri del reggimento San Marco. Una preghiera di suffragio per Monsignor Georg Ratzinger, fratello di Benito XVI e una preghiera per il Papa Emerito perché si è consolato in questo momento di dolore e quanto assicura Francesco in una lettera inviata al predecessore per la morte dell'amato fratello Cristiana Caricato. Tutto in una parola filialmente Papa Francesco esprime il proprio cordoglio al predecessore per la perdita dell'amato fratello e riesce a dare il senso di un rapporto inedito tra il pontefice regnante e l'emerito inevitabilmente discusso e analizzato semplicemente congedandosi con due avverbi filialmente e fraternamente. Scopriamo dal testo della lettera inviata a Benedetto XVI che è stato l'anziano Papa e merito a comunicare la notizia della morte di Monsignor Georg Ratzinger a Francesco una delicatezza che testimonia la saldezza di un rapporto autentico non formale in cui la vicinanza spirituale rimane il dato più evidente in grado di superare ogni possibile difficoltà o dolore. Papa Francesco nella sua lettera assicura preghiera per il defunto e imbocca il Signore della vita affinché introduca nella patria del cielo l'anziano Georg concedendogli il premio per i fedeli servitori del Vangelo. Parole di conforto per il sempre più fragile Josef che solo poche settimane fa si è sottoposto ad un enorme sforzo fisico ed emotivo per raggiungere il capezzale del fratello maggiore. I funerali di Monsignor Georg Ratzinger saranno celebrati mercoledì 8 luglio alle 10 nel Duomo di Regensburg. dopo 31 anni arriva la svolta nelle indagini per la morte di Nino Agostino il poliziotto ucciso il 5 agosto del 1989 insieme alla moglie la procura generale chiede il processo per i boss Madonia e Scotto ma anche per l'amico del cuore dell'agente ucciso che è accusato di aver aiutato i killer Luca Licata Sono trascorsi 31 anni dall'uccisione dell'agente Nino Agostino assassinato insieme alla moglie Ida Castelluccio un omicidio efferato l'agente che stava indagando sul fallito attentato alla D'Aura che mirava a Falcone fu raggiunto da diversi colpi di pistola a Villa Grazia di Carini la sera del 5 agosto dell'89 Agostino morì all'istante insieme a lui la moglie incinta di due mesi poi tre decenni di misteri intorno a un delitto rimasto irrisolto e una presenza costante e instancabile quella del padre Vincenzo che dal primo giorno chiese verità sull'omicidio del figlio opponendosi a ricostruzioni fantasiose questa verità però non arrivò e a testimonianza che il tempo passava la lunga barba bianca decise di non tagliarla più fino a quando non fosse stata fatta giustizia solo adesso quella svolta alle indagini tanto attesa sembra essere arrivata la procura generale di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di due boss Antonino Madonì e Ghetano Scotto accusati del duplice omicidio a processo andrà anche Francesco Rizzuto amico del poliziotto assassinato imputato di favoreggiamento aggravato parliamo adesso del testo unificato sull'omofobia che in queste ore sta creando dibattito e distinguo in particolare tra le donne come ci spiega Cesare Cavoni prima ancora di diventare legge il testo unificato sull'omofobia si sta dimostrando divisivo e liberticida proprio nell'ambiente in cui sperava di prendere più consensi non è un caso che moltissime associazioni di femministe nonché di donne omosessuali che hanno rifiutato il termine e l'idea di gender vengono ora accusate di essere transfobiche il femminismo e non solo il femminismo aveva attaccato questo concetto di identità di genere questo concetto di identità di genere è quello che spiega il caso per andare in sintesi J.K. Rowling cioè non potersi più dire donna perché questo è in sé trasfobico il riferimento è al caso dell'autrice della saga di Harry Potter che di recente era intervenuta in difesa di una ricercatrice licenziata dall'organizzazione contro la povertà per aver sostenuto che il sesso biologico un dato oggettivo è che le donne transessuali non sono vere donne il testo base Scalfa Rottozane che arriva alla camera interviene punendo chi propaganda idee fondate non solo sulla superiorità sull'odio raziale e etnico ma anche sull'odio relativo al sesso al genere e all'orientamento sessuale su questo la CEI era già intervenuta dicendo in sostanza che la legge non serve poiché i reati in oggetto sono già puniti adombrando quindi nei confronti del testo il reato di opinione le femministe contestano di non aver mai chiesto una legge contro la misoginia che può essere sconfitta da educazione comportamenti e cultura risulta poco credibile una legge contro la misoginia concepita da persone per dire come Scalfa Rotto che è un fervido sostenitore dell'utero in affitto che è una cosa super misogina quindi noi questa legge con tutti questi riferimenti al genere la respingiamo non la vogliamo ogni mese le famiglie riceveranno una somma per ciascun figlio dalla nascita fino ai 18 anni con una maggiorazione dal terzo figlio è la promessa del ministro della famiglia che sta lavorando all'assegno unico per figli a carico ci spiega tutto Alessandra Camarca l'assegno unico universale per le famiglie sarà erogato con semplicità a tutti i nuclei familiari senza dover fare nulla di particolarmente complicato per ottenerlo la spiegazione arriva dallo stesso ministro della famiglia Elena Bonetti in diretta tv aggiungendo che le famiglie potranno contare su questa cifra tutti i mesi si spera dal prossimo anno l'assegno universale avrà dunque cadenza di 30 giorni e verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età di ciascun figlio indipendentemente dal reddito ma con una quota variabile aggiuntiva prevista in base agli scaglioni mesee ad eccezione della figlia o del figlio disabile per il quale non sussistono limiti di età due i modi possibili per erogare il contributo una somma di denaro o il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione nella denuncia dei redditi nel caso di figli successivi al primo l'assegno verrà maggiorato del 20% come anche nel caso di disabilità l'assegno è la prima misura del Family Act l'ampio pacchetto di interventi a favore delle famiglie italiane che dopo il via libera di Palazzo Chigi attende decreti di attuazione fra gli interventi previsti le novità sui congedi parentali sconti sugli asili e incentivi al lavoro femminile sale la tensione a bordo della Ocean Viking che ha salvato dalle acque del mare 180 migranti ma ancora non ha ottenuto l'autorizzazione da traccare né in Italia né a Malta tutti i migranti dicono i soccorritori hanno bisogno di assistenza immediata la decisione sulla possibilità di riconvertire in moschea Santa Sofia a Istanbul verrà resa nota per iscritto entro 15 giorni lo ha deciso il Consiglio di Stato di Ancara al termine dell'udienza di questa mattina sul ricorso presentato da un'associazione locale per chiedere la modifica dello status del monumento che dal 1935 lo ricordiamo è un museo Paolo Fucili quest'uomo non ha dubbi è il simbolo di Istanbul vogliamo che sia una moschea sarebbe una delusione per milioni di cristiani una frattura fra est ed ovest ha avvertito invece Bartolomeo patriarca ortodosso di Costantinopoli l'argomento assai controverso è l'antica basilica di Santa Sofia trasformata in moschea quando i turchi ottomani nel 400 conquistarono la città e quindi museo dal padre della Turchia moderna Kemal Ataturk negli anni 30 del 900 un atto quest'ultimo illegittimo lo contesta ora una piccola ma guerrita associazione con l'appoggio però di tre turchi turchi su quattro dice un sondaggio che rivorrebbero la moschea dipende da cosa deciderà entro 15 giorni come annunciato oggi il consiglio di stato e non sarà un verdetto come tanti altri perché Santa Sofia oltre che grande attrazione turistica è un argomento bandiera di nazionalisti ed islamisti su cui poggia il potere di Tajib Erdogan chi governa in Turchia voi o noi domandava polemico il presidente pochi giorni fa rivolto a Grecia e ai Stati Uniti anzitutto e se anche la Corte Suprema rigetterà l'istanza vorrà dire comunque che su Santa Sofia decide il presidente cioè prima Ataturk e oggi Erdogan e infatti ha avallato lui il 29 maggio la recita della Sura della Conquista dentro l'attuale museo e non era proprio un giorno a caso bensì l'anniversario della caduta 1453 della Bisanzio Cristiana 6 foto mai viste che documentano la storia di una carneficina avvenuta nel maggio del 1937 in Etiopia e da molti dimenticata vediamole nel servizio di Antonello Carvigiani che con la sua ricerca puntuale ha sempre tenuto vivo il ricordo di un massacro inaudito 6 scatti mai visti documentano la strage di Debreli Banos Etiopia maggio 1937 monaci cristiani trucidati per ritorsione dopo l'attentato subito da Graziani una carneficina ingiustificabile le foto e le didascalie sul retro sono di Virgilio Cozzani tenente di complemento del 45esimo battaglione musulmano incaricato di eseguire le fucilazioni i primi tre scatti sono del giorno prima della strage 20 maggio si vedono il monastero i reparti italiani sul pianoro di Debreli Banos i monaci in attesa di essere fucilati le foto appartengono a un avvocato appassionato di storia Luigi Panella la foto successiva mostra il plutone di esecuzione proprio a Schunkurti il 21 maggio del 1937 si vedono gli ascari che sparano verso delle macchie bianche sullo sfondo e sono i monaci che vengono fucilati e Cozzani annota dietro questa fotografia del plutone di esecuzione all'opera Schunkurti 21 maggio 937 261 ciao ne irridendoli Cozzani dà anche il numero dei monaci fucilati 261 un dato poco diverso da quello riportato da Maletti nei rapporti ufficiali 297 la foto successiva mostra dei colpi di grazia che vengono dati ad alcuni monaci a terra l'ultima foto è la più impressionante perché si vedono a terra i corpi dei monaci fucilati e si vedono anche alcuni ufficiali italiani che è possibile riconoscere a comandare i reparti italiani il generale Maletti al quale dopo che TV2000 ha fatto conoscere questa storia alcuni comuni hanno revocato l'intitolazione della via che gli avevano dedicato le foto verranno ora pubblicate in un libro in 100 copie sul 45esimo battaglione il 45esimo battaglione è il reparto ideale per questo genere di cose era stato costituito durante la campagna etiopica ha dato buona prova di sé aveva un comandante che era stato scelto un anno e mezzo prima dello stesso Graziani e fatto non trascurabile era interamente composto da elementi musulmani e adesso un aggiornamento perché secondo Bruxelles i voucher di rimborso non vanno bene l'Unione Europea ha infatti aperto una procedura di infrazione contro l'Italia e in verità anche contro la Grecia per la modalità di restituzione delle somme pagate per viaggi e trasferimenti prenotati ma non goduti a causa delle chiusure per l'emergenza sanitaria da Covid-19 insomma compagnie e tour operator non possono solo emettere buoni da usare in seguito ma devono comunque garantire il rimborso in denaro con questa notizia è tutto vi lascio adesso alla messa dal santuario di Nostra Signora di Fatima in San Vittorino Romano il Tg torna come sempre alle 20 e 30 buona serata in San Vittorino in San Vittorino in San Vittorino in San Vittorino in San Vittorino